L'Urban Center di Rivarolo si completa con questa palazzina uffici, palazzina di dimensione media, non molto importante, ma che dà una completezza anche funzionale a questo complesso urbano. Qui abbiamo usato un altro linguaggio dell'architettura, diciamo, contemporanea, di taglio decisamente nordico, ancora di più di quello del Rheinsink, della copertura dell'albergo. I mattoni bicolori di un taglio più brunito o un taglio più giallino che richiamano linguaggi di edifici per uffici che si possono incontrare a Rotterdam o Hamburgo, città portuali del nord Europa. Inoltre abbiamo dato questo taglio alle finestre da pavimento a soffitto che sempre richiama le tipologie di uffici del nord Europa. Abbiamo poi anche questo gioco tentato, abbastanza sottile, della scala che affaccia da questo lato, dove abbiamo un lavoro di vetrature serigraffate, segnate a fasce orizzontali per raggiungere ancora qualcosa di taglio europeo. Tutto questo nasce dal fatto che il sindaco della città di Rivarolo, Fabrizio Bertot, aveva chiesto espressamente all'investitore, imprese, a costruzioni d'eiro, di lavorare su una progettualità poco provinciale, anzi una progettualità molto rivolta all'Europa, al di là delle Alpi, che sono qui molto vicine a Rivarolo. Il messaggio era anche di uscire dal ristretto ambito provinciale del luogo in cui viene realizzata la costruzione.